oggi andiamo a vedere un ottimo laser per chi soprattutto vuole iniziare e soprattutto come qualità prezzo è veramente eccezionale sto parlando del mac po x3 pro da 10 watt un laser che ha tutto quello che ci serve per iniziare e non solo ciao a tutti e benvenuti nel canale come dicevo oggi andiamo a recensire questo laser molto interessante da 10 watt mi è stata offerta da jig buying la possibilità di recensire un laser e la mia scelta è caduta su un laser a 10 watt non ho scelto un laser da 20 watt perché era interessante questo laser qua soprattutto per chi è all'inizio e vuole acquistare un laser e non spendere troppo ha un ottimo rapporto qualità prezzo quindi chi è alle prime armi e non solo perché è un ottimo laser ora ve lo faccio vedere è consigliatissimo se non lo conoscete jig buying è un ottimo store dove potete trovare tutte le ultime novità tech ho accettato questa collaborazione perché gran parte del materiale che io acquisto ha dei buoni prezzi su questo sito e se può interessarvi ho dei codici sconto che giornalmente pubblico nel gruppo facebook e su telegram il sito in questione è questo è uno store molto interessante il mio consiglio è visitarlo perché ne vale la pena io ho acquistato diverso materiale da loro e non ho mai avuto nessun tipo di problema hanno un ottimo supporto non ho utilizzato il supporto molto con loro perché non ho mai avuto problemi grossi però ho fatto delle prove chiedendo delle informazioni e mi hanno risposto tempestivamente quindi io ve lo consiglio se dovete fare degli acquisti e come diceva io giornalmente pubblico le offerte del giorno con il codice sconto inserendo il codice sconto si possono arrivare veramente degli ottimi sconti quindi il mio consiglio è dateci un'occhiata e in caso possiamo discutere anche nel gruppo facebook se avete bisogno di qualcosa in particolare posso verificare se c'è il codice sconto per voi prima di tutto voglio parlarvi dell'azienda perché è una cosa molto importante che voi sappiate che macpo è un'azienda giovane che si è adentrata nel mondo del laser e sta realizzando degli incisori veramente al top ora io vi sto facendo vedere un laser da 10 watt ma se andate nel sito ufficiale trovate dei laser a diodo ben più potenti più professionali ce n'è uno molto interessante completo di high assist e box telecamera e tutto quello che serve ha un prezzo veramente interessante io vi consiglio di darci un'occhiata perché è un'azienda si giovane però stanno lavorando molto ma molto bene stanno ottimizzando il tutto sapete che a me piacciono i laser completi ve l'avevo già detto nei video precedenti fatto un giro perché veramente l'azienda merita e soprattutto il supporto ho provato a contattarli tramite supporto a fargli delle domande ho fatto delle domande sia banali che abbastanza tecniche nel giro di 24 ore mi hanno risposto quindi sono molto veloci capite che c'è un fuso orario magari io ho scritto nel pomeriggio e loro mi hanno risposto alla mattina presto quindi calcolate anche questo che c'è il fuso orario di mezzo comunque sono sempre disponibili ed è una cosa molto importante un'altra cosa importante anche i ricambi lì all'interno del sito troverete tutti i ricambi se in futuro vi servirà qualche particolare che magari negli store non trovate contattate tranquillamente il supporto che loro vi indirizzeranno dove acquistarlo quindi vi consiglio di tenerla d'occhio questa azienda perché si sta facendo veramente strada su questa miriade di laser che ci sono in commercio ma adesso passiamo al succo del discorso parliamo di questo laser ora facciamo un breve unboxing non vi faccio vedere l'assemblaggio perché sul canale ufficiale di macbook c'è l'installazione completa ed è spiegata perfettamente magari vi lascio il link qui sotto nella descrizione però prima di tutto voglio ringraziare i nuovi abbonati al canale che come lo dico ogni volta state aumentando e per questo io sono veramente contento vi ringrazio e se volete anche voi abbonarvi al canale per ricevere in anteprima i video trovate tutto qui sotto nella descrizione oppure cliccate sul pulsante abbonati bene passiamo subito all'unboxing e andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questo pacchetto bene vediamo all'interno di questa scatola cosa troviamo iniziamo subito con un cavo usb il classico cavo che trovate un po dappertutto eccolo qui poi troviamo le istruzioni vediamo se c'è in italiano mi sembra che sia anche in italiano eccolo qui perfetto è anche in italiano quindi avete anche le istruzioni in italiano classiche viterie con la chiave per accendere o spegnere la macchina è un dispositivo di sicurezza ulteriore dei gommini da mettere sui piedini che al momento io non li utilizzerò perché voglio allungare i piedini per utilizzare i rotari l'alimentazione che è da vedo un attimo ha un input di 220 volt 1,5 ampere a 60 hertz e un output di 12 volt 5000 mili ampere non è male è il classico di un laser da 10 watt troviamo gli occhiali di protezione mi raccomando utilizzateli anche se non sono a norma almeno avete qualcosa che vi protegge il controller bello massiccio dove troviamo l'interruttore il pulsante emergenza il reset dove inserire la chiave il wifi molto interessante e il sensore di fiamma che potete anche disabilitarlo da qui è abbastanza completo come controller quindi troviamo l'asse X che è collegata al limit switch l'ho staccata perché se no non riesco a farvela vedere eccola qui lo spessore per tarare e mettere a fuoco il laser i quattro profili per l'assemblaggio del laser questo è un laser che ha un'estensione di 410x410 però con il discorso dell'ail assist si limita un po' però vi faccio vedere tramite un trucchetto dove potete utilizzare tutto il piano di lavoro di 410x410 poi una volta assemblato vi faccio vedere come fare qua ci sono i piedini un cacciavite che se ne avete uno migliore è meglio perché ve lo sconsiglio un po' questo cacciavite dei pezzi per fare dei test dell'acciaio dell'MDF da 3 mm ci facciamo dei bei material test per vedere il tutto le cinghie ovviamente quelle non devono mancare per l'asse Y perché l'asse X sono già montate e il nostro bel laser lo apro un attimo eccolo qui il laser compatto e ben costruito come laser è un laser da 10 watt come vi dicevo è già tutto incorporato con l'air assist c'è già tutto montato quindi non avete nessun problema qui sotto non c'è più niente benissimo bene adesso passiamo all'air assist vediamo che è qui all'interno sposto la scatola un attimo bene l'air assist ha le sue istruzioni ma non è niente di complicato è un classico l'air assist che si attacca direttamente all'alimentazione ai 220 volt e ha un variatore di velocità quindi potete regolare la velocità come volete un tubo in silicone per fortuna che hanno messo un tubo in silicone che è ottimo soprattutto quando lavori il laser che si muove a destra e sinistra questa è un'ottima cosa complimenti l'unica cosa è che questo questo air assist non è automatico quindi non lo potete comandare in automatico tramite lightbar ma dovete accendere manualmente non è un problema vi garantisco che non è un problema state tranquilli non vi preoccupate comunque questo è tutto quello che sta all'interno del box come vedete c'è abbastanza materiale che ci offre manca il box e l'aspirazione che sono delle cose importanti magari vi lascio qui sotto nella descrizione anche il kit completo con box aspirazione cosa che vi consiglio di acquistare bene abbiamo visto l'unboxing una cosa veloce come vi dicevo l'assemblaggio vi lascio qui sotto nella descrizione il link del canale di MacPo che è completissimo l'assemblaggio e ora andiamo a vedere la struttura una volta assemblata e vi faccio vedere alcuni trucchetti che io ho inserito chiamiamoli trucchetti ma servono per ottimizzare al meglio il laser ed ecco qui il laser una volta assemblato il tutto questa è la sua struttura come vi dicevo il piano è di 410x410 ora vi faccio vedere come fare perché se mettete l'air assist in una certa maniera è riuscito ad arrivare al massimo a 370 sull'asse X ma vi spiego alcuni accorgimenti che ho fatto come vedete prima cosa mi sono stampato con la stampante 3D questo porta spessori se volete vi lascio il link qui sotto nella descrizione anzi ve li metto così magari se vi servono ve li potete stampare anche la Unicom è il classico Unicom che ha un piano 400x400 quindi è abbastanza grande confronto quello che utilizzavo prima che era un 350x350 una cosa che magari può far storgere un po' il naso è il cablaggio come vedete il cablaggio è un po' libero ma non è un problema si può fare un cable chain come avevo fatto io sui miei vecchi incisori quindi sono tutte cose che si possono risolvere nulla di grave diciamo comunque io ho lavorato così e non mi ha dato problemi però insomma sarebbe bello avere un cable chain comunque questa è la struttura come vedete io ho fatto delle modifiche nel senso mi sono stampato questo particolare qui che serve per tenere l'air assist lo potete fare anche con il laser è un semplice triangolino dove c'è lo spazio per inserire le due viti qua e lo spazio per inserire il scusate che è andato fuori fuoco lo spazio per inserire il tubicino in silicone molto semplice una cosa l'ho fatto perché in questa maniera posso girare questa bocchetta a posto di tenerla così che mi va a sbattere mi sposto vi faccio vedere mi va a sbattere direttamente qua ho fatto questo per girare la boccoletta così in maniera che così mi va sotto e posso arrivare al massimo dell'apertura del piano di lavoro quindi riesco a fare un 410 per 410 senza nessun problema è un piccolo accorgimento però vi fa guadagnare quei 30 mm in più da poter incidere o tagliare con il vostro laser inoltre mi sono stampato queste specie di dime che è una qui e una qui per tenere centrato il tutto inoltre ho stampato anche questa dima che serve per dargli la partenza laser se io posiziono vi faccio un esempio allora scusate perché ho anche il telefono in mano se io posiziono così e metto questa qui qua io so che lui parte nell'angolo in basso a sinistra ed è centrato correttamente con questa dima sono tutte accortezze che vi rispargono un sacco di tempo allora parliamo un attimo del controller il controller come vi dicevo è abbastanza completo nel senso c'è il classico pulsante di emergenza la chiave di sicurezza che se magari avete dei bambini o qualcosa girate la chiave la togliete e il laser non si accende come vedete il wifi poi vi faccio vedere come utilizzare il wifi che non ho visto video che fanno vedere come utilizzare il wifi ed è una cosa interessante perché c'è anche un'applicazione in cui potete utilizzare il wifi e incidere direttamente con lo smartphone o col tablet con quello che volete il sensore di fiamma che è questo qui e da qui dietro giro un attimo la telecamera da qui dietro come vedete si può disabilitare scusate per le super riprese ma è giusto per farvi vedere un po' il tutto un pulsante classico di reset eccolo qui la possibilità di inserire una scheda SD che io l'ho inserita poi vi faccio vedere tramite wifi come utilizzare questa va bene i due spinotti della tensione della corrente continua e del cavo dati poi qui non c'è altro come vedete l'air assist è a parte va collegato direttamente alla rete è 220 volt e viene comandato da questo qui questo qui si accende e come vedete si regola l'intensità devo dire che sono rimasto molto coprito da questo air assist perché ha una potenza cioè l'aria esce bene perfettamente un'altra cosa interessante è la possibilità la facilità più che altro di centrare il tutto se io metto vi faccio un esempio metto questo spessore qua ok facciamo finta che sotto ci sia un pezzo di legno prendiamolo facciamo direttamente prendiamo subito questo mdf mettiamo lo spessore sotto scusate ma sto facendo tutto con una mano non è facile qui si svita per regolare l'altezza andiamo lo appoggiamo in battuta e lo chiudiamo non serve premere forte non ha senso premere forte dopo lo spostate all'esterno e voi avete il vostro laser a fuoco quindi siete tranquilli e siete pronti per poter incidere bene abbiamo visto il laser com'è composto ora dobbiamo testarlo ovviamente dobbiamo fare alcune prove sul laser vi dico solo una cosa che l'installazione sia su LightBarn che sul laser GRPL è facilissima si installa praticamente da solo va a riconoscere il laser senza nessun tipo di problema in caso ho fatto dei video riguardo sia per uno che per l'altro programma su come installare un laser andiamo a vedere il primo test che ho effettuato e cioè quello del riempimento ed eccolo qui vi faccio già vedere i test che ho effettuato come vedete ho fatto un solo passaggio con un punto intervallo di 0.08 che è quello del laser e ho effettuato dei test che partono da 1000 mm al minuto e arrivano fino a 10.000 mm al minuto partendo da un 10% e arrivando a un massimo dell'80% io di solito i test mi fermo all'80% cosa che vi consiglio di non utilizzarlo mai al 100% più che altro perché così vi dura molto più a lungo il laser io ho il laser che io ho il laser che sto utilizzando da 4 anni non superando l'80% a volte sì ho superato anch'io l'80% per fare delle prove però funzionano ancora perfettamente quindi un consiglio è utilizzatelo fino al massimo dell'80% questo è il riempimento comunque poi ho fatto il classico material test per capire il taglio quindi ho fatto un passaggio che sono devo leggere anch'io che sono passato da un 100 mm al minuto sempre 10-80% con un solo passaggio è riuscito a tagliarmi solo a 100 mm al minuto che va da 64,4 fino all'80% come avete visto non ero soddisfatto quindi l'ho fatto a due passaggi e il risultato è ottimo come potete vedere in due passaggi possiamo utilizzare anche una velocità di 500 mm al minuto circa con un 70% di potenza e in due passaggi taglia un MDF da 3 mm senza nessun problema non mi sono fermato qui ho provato ad incidere anche un'immagine per vedere la qualità e questa è l'immagine l'ho passata su Gimp ho effettuato delle elaborazioni tramite Gimp ho fatto un video riguardo su come effettuale poi sono passato su Lightburn direttamente e questa è l'immagine che ho realizzato è un'immagine che ho realizzato tramite l'intelligenza artificiale comunque i risultati non sono male è in basso rilievo giusto per iniziare tutte le sfumature mi avvicino per farvela vedere ancora meglio e come vedete le sfumature e anche i rilievi sono molto evidenti quindi questo laser lavora bene anche sulle immagini molto interessante inoltre ho provato a fare un incisone e un taglio tramite wifi ho fatto una cosa molto semplice ed eccolo qui ho tagliato un esagono ho messo le mie iniziali come vedete qua ci sono delle sfumature sull'incisione perché tramite l'applicazione potete anche regolare sia il taglio la velocità che la potenza giusto per capirci e vedete che qua vada più scuro a più chiaro l'ho fatto apposta per farvi vedere adesso però vi faccio vedere come utilizzare wifi perché non ho trovato video a riguardo e potrebbe essere una cosa interessante anche per chi ha già un mac po 3 o x5 o altri mac po che ci sono in commercio vi da la possibilità di utilizzare questo wifi adesso vi faccio vedere tutti i passaggi dal come connetterlo a wifi a come usare l'applicazione allora iniziamo con accendere il nostro laser una volta che avete acceso il laser dovete collegarlo a wifi quindi andate nel wifi lo attivate ora lui andrà alla ricerca e il wifi corretto è questo qui mac po ovviamente il mio è il 42 110 a voi sarà un altro numero quindi andate a cliccarci sopra ora lui si è connesso ma la password da inserire è 12345678 questa è la password che è uguale per tutti una volta che vi siete connessi con il telefonino o il tablet o quello che volete al laser avviate l'applicazione quindi ci siamo collegati quindi avviamo l'applicazione che si chiama mks laser una volta che l'avete scaricata la trovate su android la trovate su play store tranquillamente presumo che ci sia anche su iphone ma non ho la possibilità di darvi la conferma perchè io utilizzo android comunque avviate mks laser ed è molto semplice come vedete dovete ovviamente connettere il laser all'applicazione quindi dovete cliccare qui andare su wifi l'indirizzo ip anche in questo caso l'indirizzo ip è uguale per tutti quindi l'indirizzo ip corretto è 192.168.4.1 e fate connetti bene il laser si è connesso ora potete tramite l'applicazione utilizzare il laser da remoto via wifi una volta all'interno del controllo potete muovere il laser quindi avanti indietro destra sinistra ok non sto qui a spiegarvi qua potete muoverlo più velocemente o più lento o di 10 mm o di 50 mm che si fa movimenti più lunghi qui c'è il tasto home il tasto del punto di origine il tasto dell'accensione e del laser sono tutti questi qua sotto e quello della temperatura inoltre potete anche inserire un file il mac pov x3 pro ha la possibilità di inserire un sd quindi andando all'interno della directory file voi trovate questo file che io ho inserito ma per inserire i file dovete salvarlo in gcode quindi se utilizzate lightbarn o in qualsiasi altro programma non dovete salvarlo nel formato lightbarn ma salvarlo e esportarlo per capirci nel formato gcode che è il formato che i laser leggono ovviamente vi create il vostro bel file su lightbarn li selezionate se volete fare prima linea dopo riempimento come volete lo esportate come gcode e lo inserite nell' sd e quindi potete avviarlo da qui un'altra cosa interessante è la possibilità di disegnare direttamente dallo smartphone come vedete qua ci sono una serie di disegni potete fare quello che volete ne cliccono a caso e potete lanciare la stampa come vedete ci sono alcune selezioni potete aumentare la luminosità, il contrasto potete un po' modificarlo andate con la freccia avanti quindi qua selezionate la dimensione che volete fare potete farla anche più grande se volete adesso ho esagerato magari facciamo 200 gli diamo conferma la potenza facciamo 800 mi raccomando potenza 800 perché lui segna da 0 a 1000 un po' come funziona sull'Asia GRBL 800 sta per 80% e la velocità è millimetri al minuto quindi andiamo a mettergli 250 benissimo noi abbiamo creato il tutto possiamo fare un frame da qui e con questo tasto lanciamo l'incisione con questo qui ora io lo concello perché non mi interessa lanciarla col tasto centrale poi potete lanciare il frame prima e poi con l'ultimo tasto come vi ho fatto vedere lanciate l'incisione ma oltre a questo c'è anche la possibilità di creare un disegno come vedete avete un piccolo tool semplicissimo dove potete inserire un rettangolo potete scrivere qualcosa all'interno modificare con la penna cancellare con la gomma potete fare diverse cose oppure inserire proprio una scritta magari scriviamo Stefano chiediamo conferma ed eccola qui la spostate come volete potete trasformare in codice qr quindi scriviamo di nuovo Stefano e gli diamo conferma e vi ha creato il codice qr è interessante magari se dovete fare qualcosa di veloce da far vedere insomma andate avanti con tutto quanto qui viene vista l'anteprima se potete se volete la modificata è come prima andate avanti regolate di nuovo come vi ho fatto vedere prima la velocità la potenza e la dimensione e lanciate la stampa è molto semplice intuitivo come programma beh che dire è un laser di tutto rispetto è costruito molto bene peccato per il cablaggio potevo mettere un cable chain una cablatura particolare però va bene non è che ci si può aspettare il mondo per il costo che ha questo laser quindi accontentiamoci possiamo costruirlo noi senza nessun problema sia con la stampante 3d che con il laser ci sono dei cable chain anche fatti con il laser poi valutate voi oppure potete acquistarli direttamente valutate voi cosa consigliatissima è un box e l'aspirazione è veramente consigliata io vi lascio qui sotto il link di tutti i particolari singoli oppure del prodotto con il box e l'aspirazione incluso che è in offerta in questo periodo sapete che hanno dei pezzi limitati quindi quando sono finiti i pezzi non potete più utilizzare il codice sconto quindi se avete intenzione di acquistare un laser vi consiglio di farlo nel breve tempo non vi ho fatto vedere tagli mega enormi da 10 mm perché secondo me non ha molto senso quando incidiamo con il laser almeno per esperienza io mi sono fermato ai 5 mm sinceramente non ho utilizzato spessori più grossi però questo lo taglia dovete fare molti più molti più spassaggi però ripeto secondo me tagliare un 10 mm con questi laser non ha senso poi valutate voi se dovete fare un pezzo da 10 mm se avete qualcosa sapete che lo potete fare tranquillamente tenete d'occhio bene questa azienda perché è veramente un'azienda interessante sta sfornando dei prodotti come vi dicevo molto ma molto interessanti oltre al laser che vi dicevo prima che è completo di tutto con la telecamera e tutto quindi comprate il pacchetto unico e avete tutto già pronto ci sono anche laser un po' meno costosi c'è la versione X4 che ha una struttura molto più importante ha le guide lineari è un laser di tutto rispetto ma non credete che il laser quello che vi parlavo prima costi molto di più facendo dei confronti ad altre marche che offrono il pacchetto completo questo costa ma veramente è veramente la metà delle altre marche quindi fatevi un giro e valutate e se volete magari contattatemi su Facebook o qui che vedo se ho dei codici sconto per i laser della MacPo e mi raccomando se avete domande scrivetemele pure qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche e di lasciarmi un bel like se vi piacciono questi video e noi ci vediamo alla prossima ciao! grazie